Buongiorno bambini, come state? Sto utilizzando una nuova videocamera e un nuovo microfono, quindi spero che stavolta vada meglio. Vi chiedo scusa per la qualità video e soprattutto per la qualità audio della scorsa volta, però l'avevo già registrato un po' di volte e non avevo ancora la possibilità di farlo così, quindi spero che comunque siate riusciti a seguirlo, anche se la definizione non era proprio perfetta. Oggi dobbiamo iniziare un nuovo argomento, quindi farei così. Correggerei velocemente gli esercizi che vi avevo assegnato sul libro. Tra l'altro vi chiedo subito scusa perché vi avevo detto le pagine sbagliate. Le pagine degli esercizi erano giuste, erano pagine 94 e 95, ma invece sul libro piccolo, quello di testo, le pagine che dovevate guardare erano 65 e 66. Comunque ve l'avevo poi scritto qua sotto nei commenti perché ovviamente l'avevate notato. Vi chiedo scusa ma nella confusione della scorsa volta vi avevo dato le pagine sbagliate, quindi spero che siate riusciti comunque a capire quali fossero le pagine giuste da guardare in riferimento a Santa Chiara e Santa Caterina. La loro storia non starei molto a riprenderla, anche perché, come avevo già accennato, quando torneremo e faremo una verifica probabilmente non andrò a chiedervi nulla o praticamente nulla di queste due figure. Le abbiamo fatte perché erano inserite nel nostro percorso, ma non sono così fondamentali in linea al discorso che voglio andare a fare, mentre quello che inizieremo poi dopo sarà un argomento molto molto importante. Arrivando alla correzione dei compiti, che penso siate riusciti a fare perché erano abbastanza semplici, nella prima pagina dovevate semplicemente, a pagina 94, seguire le freccette e arrivare a trovare il nome dell'ordine fondato da Santa Chiara. C'era in realtà anche scritto sul libro, doveva uscire ordine delle clarisse. A pagina 95 il primo esercizio era semplice perché dovevate solamente incollare, a pagina 137, i vari disegni sulle didascalie, colorando poi disegni, ma questo direi che è semplice. Per quanto riguarda il vero e falso, allora, il primo era Santa Caterina era nata in Spagna, falso. Santa Caterina è nata in Italia. Caterina entrò a far parte delle suore francescane, falso. Santa Caterina entra a far parte delle Domenicane, che sono un ordine differente. Fu proclamata santa da Papa più secondo, vero. Papa Paolo VI la ordinò del titolo di professore della chiesa, vero. Era una donna che invitava alla pace e al perdono, vero. In ogni caso, come vi ho anticipato, abbiamo fatto gli esercizi, abbiamo fatto una rapida spiegazione, ma non starò ad entrare nel merito di questa questione. Quindi non dobbiamo assolutamente ricordarci papi, non papi, ma anche delle vite delle sante stesse. Non dobbiamo concentrarci molto. Mentre oggi dobbiamo iniziare a parlare di una questione molto importante, ovvero la riforma protestante. E questa, ve lo anticipo già, sarà invece una parte importante di cui sicuramente andrò poi a chiedervi quando ci rivedremo. Faremo sicuramente un ripasso, ma comunque iniziamo ad ascoltare perché è una parte importante. Dobbiamo parlare innanzitutto di un personaggio particolare, che si chiama Martin Lutero, di cui magari avete già anche sentito parlare. Ci spostiamo avanti negli anni, siamo già dopo il Cinquecento. Che cosa succede? Martin Lutero inizia a riflettere sulla Chiesa. Discorso che abbiamo già fatto tantissimo, soprattutto in riferimento al monachesimo. Vi ho già detto come la Chiesa Cattolica, purtroppo, iniziò a prendere una brutta piega, a concentrarsi sul potere, sulle ricchezze. E addirittura, per poter far fronte alle enormi spese che richiedevano le costruzioni di chiese molto grandi, come per esempio San Pietro in Vaticano, ma quella come tante altre, hanno dovuto utilizzare dei metodi particolari. Per esempio, arrivano addirittura a vendere il perdono dei peccati. Cioè, addirittura i preti iniziano a dire, tu vieni a confessarti da me, va bene, però se poi vuoi essere perdonato, mi devi pagare. Oppure, se vuoi un'indulgenza per qualche tuo parente già morto, indulgenza significa aiutare questo parente ad arrivare in paradiso, anche lì tu mi devi pagare. Vuoi dedicare una messa a qualcuno? Mi devi pagare. Per qualsiasi atto, la Chiesa Cattolica inizia in qualche modo a fare un listino prezzi. Cioè, devi essere perdonato per dei peccati meno gravi, mi paghi di meno. Hai un peccato più pesante, mi paghi di più. Chiaramente, capite che questo discorso è completamente lontano rispetto a quello che diceva Gesù. Io non ho mai letto e non ho mai visto Gesù farsi pagare per un miracolo. Purtroppo, la Chiesa Cattolica prende questa piega. Cosa fa Martin Lutero? Ad un certo punto inizia a dire, non va bene. Non ha senso che la Chiesa si faccia pagare per costruire delle Chiese. Meglio non costruirle, se dobbiamo far pagare le persone per il perdono dei peccati. Gesù non ha mai detto assolutamente nulla di tutto ciò. Martin Lutero inizia a portare avanti questo discorso, tant'è che in un anno importante che è il 1517, pubblicherà una sorta di libro che si chiama Le 95 tesi, in cui lui dirà proprio queste cose e inizierà a dire questo non va bene, questo non va bene, quest'altro non va bene. Ovvero si mette a criticare quello che la Chiesa Cattolica di fatto sta facendo, o meglio, quello in cui la Chiesa Cattolica si sta trasformando. Riprende, in questo senso, in mano tutte le critiche che già alla Chiesa erano state mosse per mano del monachesimo, per mano dei francescani, per mano dei dominicani, di tutti i frati, insomma. Però Martin Lutero non si ferma qua. Ovvero in queste tesi è vero che va a criticare il fatto che la Chiesa appunto cerchi di accumulare ricchezza, ma va anche a criticare altre cose. Per esempio dice, voi cattolici mi state dicendo che ci sono sette sacramenti, che sono di fatto gli stessi di cui parliamo già oggi, no? Battesimo, Cresima, Prima Comunione, Estremunzione, Confessione, Ordinazione, Matrimonio. Martin Lutero dice no. Secondo me, di sacramenti ce ne sono solo due, e sono il battesimo e l'eucarestia, ovvero spezzare il pane e bere il vino. Martin Lutero non è che si inventa questa cosa per dire, ok, voi ne avete sette, io ne voglio di meno, senza un fondamento. No, Martin Lutero prende in mano il Vangelo e dice, io nel Vangelo vedo Gesù che viene battezzato e Gesù che fa l'ultima cena, che cioè crea, istituisce l'eucarestia, ma non vedo gli altri sacramenti. Quindi per me, di sacramenti veri, ce ne sono solo due. Martin Lutero non sta dicendo il matrimonio non è importante, il diventare prete non è importante, ma sta dicendo, per me, non sono sacramenti, cioè non sono stati inventati da Gesù. Gli unici inventati da Gesù, per me, sono il battesimo e l'eucarestia. E questa è la seconda critica che pone Martin Lutero nei confronti della Chiesa Cattolica, ma poi va avanti e dice, voi Chiesa mi state dicendo che per prendere in mano la Bibbia, tra l'altro questa è quella che anche la versione greca dopo ve la faccio vedere, e leggerla abbiamo bisogno per forza di un prete. Io, Martin Lutero, dico che non è vero. Io dico che chiunque può prendere la Bibbia in mano, può aprirla, può leggerla e può interpretarla da sola. Da solo. Quindi non è vero che ci vuole la mediazione della Chiesa Cattolica. Chiunque lo può fare. E in più, dice Martin Lutero, non è tanto vero che importa come ci comportiamo noi. La cosa più importante è avere fede, perché tanto, anche se noi cerchiamo di comportarci bene, in ogni caso sbagliamo. Quindi Martin Lutero, in queste 95 tesi, prende tutte queste critiche qua, o meglio, muove queste critiche qua, ovvero, la Chiesa non dovrebbe vendere le indulgenze, non dovrebbe vendere il perdono, eccetera, eccetera. Quindi non ha senso. I sacramenti sono due. La salvezza arriva solo tramite la fede, non tramite le mie opere, perché tanto tutti sbagliano. E chiunque può interpretare e leggere, per conto suo, la Bibbia e il Vangelo. Attenzione, perché Martin Lutero, con queste parole, inizierà una vera e propria riforma, che verrà chiamata la riforma protestante, proprio perché lui inizia a protestare contro quello che la Chiesa Cattolica sta facendo, e porterà poi a una questione enorme, vedrete poi quando andremo avanti nel racconto, ma a che cosa scatenerà questa questione di Martin Lutero. Quando si dice riforma, attenzione, non si dice creazione di qualcosa di diverso, ma cambiamento. Cioè, Martin Lutero non vuole creare una Chiesa parallela a quella esistente, ma vuole che quella Chiesa Cattolica lì la smetta di comportarsi così e torni un po' su suoi passi. Vorrebbe, per esempio, che la Chiesa Cattolica dicesse ok, i sacramenti sono solo due, ok, non vendo più il perdono. Quindi non vuole creare qualcosa di diverso, ma cambiare quello che esiste già. Allora, questa è la questione. Non sto a dilungarmi troppo, ma come vi dicevo, è una parte importantissima, perché si legherà poi su tutto quello di cui andremo a parlare nelle successive lezioni, fino a portarci poi ai concili, eccetera, eccetera. Quindi, così come vi ho detto che Santa Caterina e Santa Chiara non erano così importanti, invece questa parte è molto importante. Martin Lutero, tra l'altro, insisteva anche molto sullo studio e sul dire che fosse importante conoscere il greco, il latino, eccetera, eccetera. Questa Bibbia qua, non so se riuscite a vederlo, ma ha da una parte la versione italiana e da una parte la versione greca, perché, come vi dico sempre, spesso, quando si legge un qualcosa in greco, ha un significato un po' diverso rispetto a come ci viene tradotto oggi. Ecco perché è anche importante conoscerlo. Per la prossima volta non vi do molto da fare. Per quanto riguarda il libro piccolo di studio, avete da leggere pagina 67. E lì sotto forse avete poi anche un esercizietto da fare per quanto riguarda Martin Lutero, ma abbastanza semplice. Mentre sul libro, un po' più spesso, questa volta dovete completare pagina 96. È solamente una pagina, anche questa è abbastanza semplice. Dovete risolvere i calcoli e arrivare ad ottenere un nome, che poi correggeremo ovviamente la prossima volta. Come tutte le volte, io vi carico poi anche sul registro in PDF questo esercizio qua, la pagina dell'esercizio, così se qualcuno non ce l'avesse può tranquillamente stamparvelo. Non vi posso caricare la pagina, quella del libro di testo, perché non ho il vostro libro di testo dietro. Infatti sapete che ne prendevo sempre uno dei vostri, o solo quello degli esercizi. Quindi, in ogni caso, se non avete quello di testo, non fa niente, tanto quello che trovate sul libro è la stessa cosa che io vi sto spiegando. Però l'esercizio invece ve lo metto anche in PDF. Per tutto il resto, se avete dei problemi o delle domande, me le potete tranquillamente scrivere qua nei commenti. Io cerco di stare dietro ai commenti e di rispondervi il più velocemente possibile. Anche perché a volte, magari come avete visto, nei video mi scappa qualche errore, come le pagine che vi avevo dato del libro. E poi nei commenti voi l'avete subito fatto notare, quindi bene così. Quindi per qualsiasi cosa mi potete contattare qua sotto. Avete semplicemente questo da fare. Ovviamente poi in ogni video faremo la correzione, come abbiamo fatto questa volta, così riusciamo anche un po' a tenerci in collegamento. Spero che anche il video e l'audio siano andati meglio. E niente, buon lavoro e buon tutto. Ci vediamo presto.